Per la squadra quartiere 167 e San Lorenzo abbiamo Con il numero 8 Fortuna Filippo per la squadra Sant'Andrea Centro Con il numero 4 De Santis, Ludovico Con il numero 7 Morelli, Paolo Con il numero 6 Martinelli, Andrea Tutti anni 98 questi Per la squadra di Incancellato Scolaro Con il numero 4 Barchetta, Nicola Numero 5 Petrini, Luca Numero 8 Sebastiani, Alessandro Numero 6 Tartufoli, Leonardo Con il numero 9 Forgia, Matteo Tutti anni 98 Arbitra di Contro, Paolo Petrini Puoi iniziare la partita? Tartufoli tocca, per ora prende Fortuna Martinelli da sotto, sbaglia Fortuna recupera la palla Tiro è corto, Martinelli ha ribalzo Sceglie i due punti, primi due punti della partita Tartufoli Palla per Sebastiani Alessandro Tartufoli, tiro da fuori Sbagliato Alessandro, Sebastiani Ribalzo La palla è fuori Dice l'arbitro La rimessa È per l'Alberto Monti De Sanchez per Fortuna Si inceppa con Martinelli Scarico Scuola per Martinelli Ruva la palla Sebastiani Riesce a mantenere in campo Tartufoli Prova l'entrata Il suo tiro è corto Però recupera la palla Sebastiani Costretto A fermarsi Passaggio per Barchetta Tartufoli per Barchetta Segno Due pari Il punteggio Fortuna Prova la penetrazione Va a segno Parte In transizione Sebastiani Ma sbaglia l'appoggio A canestro Poi prova a rubare palla De Sanchez Sotto Serma Piede perno Subisce fallo Due tiri liberi Vai al primo De Sanchez Prova per il secondo Assegno Poi due Barchetta Assegno Nicola Barchetta Quattro punti per lui De Sanchez Si costretto Si costretto a fermarsi Ora Fortuna De Sanchez Si passeggia Si palleggia sul piede Poi tenta Un tiro impossibile Barchetta 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 Di prova come prima Ma il suo tiro Questa volta è corto Non trova Non trova nemmeno Non trova nemmeno il ferro Fortuna Tutto il blocco I mattinelli Poi va dentro Sbaglia Mattinelli Gigante Rambazzo Ginelli Sbaglia Fortuna Rambazzo Sbagliate lui Cerca di strappare la palla Poi Palla a due Sa È blu Cartufoli Possesso palla Fortuna Gli ruba la palla Vola canestro E segna Martinelli Per fortuna Le Santi Vai Il tiro Cambio Entra Matteo Furgiata Porto San Giorgio Ed esce Nicola Barchetta Fortuna Palleggio Arresto Tiro Tabellone Cartufoli Passaggio Per Sebastiani Finta il tiro Poi entra E segna I primi due punti 7-6 Il punteggio Adesso Partita equilibrata Di Santis Inventare qualcosa Palla per Martinelli Fortuna Senta un tiro Risperato Gagliari Gagliari Perché lo sento Da qua Gagliari Sebastiani, Alessandro Corgià, fico in tiro Il perno sbaglia Su tiro Rimessa è Bianca Per la squadra del Veliero La presente I quartieri di San Andrea e Centro Cattupoli ruba palla intanto Però sbaglia da sotto De Santis a loro può partire in transizione E il suo tiro è vincente Fortuna ruba palla intanto Vai nel tiro C'è fallo Del numero 6 Numero 6, Tartufoli Primo fallo Due tiri liberi per Andrea Martinelli Da Porto San Delpilio Vassegno con il primo tiro libero Tornato di secondo Sbaglia C'è ribalzo Filippo Fortuna 12 a 6 Punteggio Provano a scappare la squadra del Veliero Cartufoli Cartufoli Palleggio Arresto Tiro La palla Spazio sul perro ed esce Fortuna Fortuna Che c'entra La palla for già Oh Piano Piano Fortuna 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 va con la penetrazione Sbaglia Martinelli Rimbalzo In Gapin A segno 14 a 6 Andrea Martinelli Sebastiani Da sotto Tutto solo Non sbaglia Pallo Il numero 8 Due diri liberi Due diri liberi per Ludovico De Santis Assegno Con la tabella Ludovico Per il primo tiro Ora prova con il secondo Il tiro è cortissimo Non prende nemmeno il ferro Rimessa laterale Per la squadra Alberto Monti Cangellato a Scolaro Martinelli Balla per Fortuna E va a segno 17 a 8 Cambia la prossima Sebastiani Di ruba Palla Fortuna Il volo a canestro Non c'è fallo Tartufoli Palla per Sebastiani Alessandro Tartufoli Trova l'entrata Ma sbaglia Ludovico De Santis A ribalzo Martinelli Prova a partire Falla per Fortuna Non c'è fallo Non c'è fallo Non c'è fallo Non c'è fallo Entra Entra Paolo Petrini Ed esce Paolo Morelli Ed esce Ludovico De Santis La parte opposta Entra Luca Petrini Ed esce Alessandro Sebastiani Fortuna 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 Orelli Palla ancora per Fortuna Prova il giro Da due A segno Palla fuori Time out Richiesto dalla squadra del veliero Squadra Sant'Andrea E cedro Spare in campo Rientra Ludovico De Santis Ed esce Filippo Fortuna Della squadra Sant'Andrea Centro Furgià Tartufoli Prova la penetrazione Sbaglia Furgià Rimbalzo Sbaglia anche lui De Santis Braccato da Tartufoli Trova Passatis Trova Morelli Il tiro La scelta Segno Puglia Tunti Per Paolo Morelli 13 Per la squadra Sant'Andrea Centro Tartufoli Prova ad alzare la parabola Il suo tiro Sbaglia Furgià Va a rimbalzo Petrini Furgià Il tiro Da due A segno Martinelli Prova a fare tutto da solo Sbaglia Petrini Recupera Il rimbalzo Tartufoli Rischia L'infrazione di passi Ma riesce A mettere palla a terra Furgià Riesce a mantenere la palla in campo Scarico per Tartufoli Valleggio Arresto Tiro Sbagliato Martinelli a rimbalzo Morelli Non sa chi passare la palla Ora troviamo Martinelli Martinelli Sbaglia Si prova E segna Altri due punti Time out Ok si può riprendere Non c'è time out 1 minuto e 30 Al termine Del primo tempo Di questa prima partita Del primo pari del Cesco Intanto Furgià Leonardo Tartufoli Da Civitanova Marche 45 secondi 45 secondi Tartufoli Tartufoli 28 secondi 29 16 Tartufoli Tiro Da due Non riesce ad arrivare Forgiamo Ma c'è Petrini Luca Che va a segno Tartufoli 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 5 4 3 2 Tartufoli Tartufoli Fine del primo tempo Tartufoli